Per la rassegna di oggi, lunedì 14 novembre su Notizia e Unclic, apriamo con un editoriale di educazione finanziaria Carpe Diem, commercialisti, motore di educazione finanziaria. Ambiente Istat, con il lockdown, cala la produzione dei rifiuti urbani, aumenta la raccolta differenziata. Per l'estero la Brexit ha raddoppiato il conto nei ristoranti inglesi. Zingaretti, populismo, cavalca i problemi ma non li risolve. LN dal G20 Summit, fondo per le future emergenze sanitarie, ancora estero Unione, europea Castaldo, previsioni economiche sono nere, serve un nuovo recovery. Questo e molto altro potete trovare su notizianunclic.com, vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima rassegna flash e buona giornata Loredana.